20esima giornata del Gironè della Serie D allo stadio Stefano Lotti si affrontano Poggi Bonzi e Tau Alto Pascio, padroni di casa a caccia di punti importanti per un fine stagione molto tranquillo in relazione alla salvezza. Gli ospiti vogliono raggiungere un posto nei playoff. Partita frizzante fin da subito, gli ospiti si rendono pericolosi con un paio di azioni. 14esimo bella trama del Poggi Bonzi, Rocchetti arriva alla conclusione, si coordina bene il numero 17, il pallone però sorvola sopra la traversa. Al minuto 17 si distende il Tau Alto Pascio, Capparella impegna Pacini che con un grande intervento salva in calcio d'angolo. 28esimo calcio d'angolo per i padroni di casa sulla respinta campanile, Cecconi tira fuori. 34 sul cronometro, Poggi Bonzi vicino al gol, Bellini sfiora il palo con un diagonale velenoso. 40esimo minuto il capitano degli ospiti Meucci va vicinissimo al gol, da dentro l'aria il suo piattone destro ad incrociare rasenta l'incrocio dei pali. Dopo un minuto il classe 2005 Manetti impegna seriamente Pacini, il porterone giallorosso neutralizza il tiro a botta sicura del giovane calciatore amaranto. Terminano i primi 45 minuti sul punteggio di 0 a 0, partita piuttosto divertente con occasioni da entrambe le parti. Con le immagini passiamo alla ripresa. Settimo minuto, Lombardi porta in vantaggio i suoi. Deviazione vincente di destro al volo, Pacini è battuto 0 a 1 per il Tau. Nono minuto calcio d'angolo per gli amaranto, Zini è il più lesto di tutti. Grande tempo di inserimento, colpo di testa e gol 0 a 2 per il Tau. Al minuto 15 il portiere di Biagio rinvia male, Bellini ne approfitta. L'attaccante Poggi Bonsese beffa anche i difensori centrali e dimezza lo svantaggio. Al diciannovesimo terzo gol del Tau Alto Pascio. Il pallone viene toccato da Meucci che indirizza la sfera in rete dopo una sponda di testa. Trentunesimo minuto, il neo entrato Motti prova a scuotere i suoi. Il suo tentativo con il sinistro è ottimo, brivido per il Tau. Quarantunesimo Barbera tira da fuori aria con la manona di Biagio, alza il pallone in calcio d'angolo, risultato che rimane sul 1 a 3. Quarantasesimo, Motti si libera bene, si gira, conclude forte ma imprecisamente pallone alto. La partita termina 1 a 3 per gli ospiti a Maranto. Per il Poggi Bonsi arriva una battuta d'arresto dopo la splendida vittoria di Orvieto nel precedente turno. In classifica i Leoni rimangono ad otto punti sopra la zona play-out grazie alla concomitante sconfitta del Montevarchi in casa della Pianese.